Ehi la ciurma! Io sono Mazza Tess e ben ritrovati su questo nuovo episodio di Mindtest Mod Spotlight Siamo all'episodio numero 3 e ora sto utilizzando una mod che mi è stata consigliata da un iscritto di cui vado subito a ripescarmi il nome perché lo ringrazio davvero un sacco di questa mod perché non la conoscevo e quindi GG, cioè grazie. La moda di cui stiamo parlando è la Cannons versione 2.1 e è stata creata da l'utente Qdaniele97. Grazie Qdaniele97. Dicevo, la Cannons 2.1 creata dall'utente Addy e in pratica aggiunge dei cannoni come appunto detto. Di base il tutto parte da un secchiello d'acqua e da una fornace se ne trovo una. Abbiamo del legno? Sì, abbiamo anche del legno. Quindi, allora partiamo tutto con il nostro secchiello d'acqua che teoricamente è salata da quanto viene detto qua. Allora noi facciamo cuocere il nostro secchiello d'acqua. Scusate ma anche se sono in creative è meglio non specare il legno. Il legno è nostro amico. Ecco, noi cuociamo questo quando cuoquerà tutto e consuma anche un pochettino. Due wooden planks credo. No, forse anche di più. Forse anche di più. Forse anche di più. Tre. Sì. Tre wooden planks. Esatto. Otterremo il nostro bucket with salt. Che non è nient'altro che del sale dentro al secchiello. Che se noi mettiamo nella crafting table, cioè nell'inventario per craftare, otteniamo 12 unità di sale e un secchiello vuoto. Dopodiché noi con il nostro sale che cosa facciamo? Facciamo la polvere da sparo. Ma come si fa la polvere da sparo? La polvere da sparo si fa con il mese. Tanto per cambiare direte voi, no? Mi pare con il mese crystal e con il salt. No, non era così. ma lo ritroviamo subitissimo del tipo gunpowder, 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 coal lamp, mese crystal e salt. Coal lamp, mese crystal e salt. Quindi ci va anche il coal. Eccolo qui, gunpowder e quindi di conseguenza noi otteniamo la nostra bellissima gunpowder che servirà per far saltare le nostre palle di cannone. Però abbiamo bisogno anche dei cannoni, no? Abbiamo. I cannoni vengono posizionati assolutamente sugli stand. Questo è il wooden stand e questo è lo stone stand che però, a parte la texture davanti, non cambiano assolutamente per nulla. Hanno la stessa funzionalità abbastanza inutile, quella cioè di far poggiare il cannone in un luogo che non sia il suolo. E si craftano in modo abbastanza intuitivo. No, non intuitivo in realtà. C'è quello di legno che viene fatto con le wooden planks, sempre se le trovo qua. Wooden planks, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8 e 9. No, così forse. E poi con un blocco di ferro. A trovarlo. Blocco di ferro! Blocco di ferro! Questo dovrebbe essere. Ecco qua. Perfetto, era così. Così otteniamo quello wooden e invece così dovremmo ottenere quello di... No, forse uno in più. No? Allora ecco la cobblestone. cobblestone. Vediamo. Sì, forse era con la cobblestone. No, neanche. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ah, forse... sì, forse ricordo. Era così. Vero? No. Eppure la recipe dice così. La recipe segna così. a meno che queste non siano così. Ah, ecco. Ecco. Ok, questo è lo stone. Quindi, easy pv lemon squeezy. Come direbbe il nostro caro amico su real power. Eeeh... Quindi ci sono due tipi di cannoni anche da essere messi sul... sul nostro tipo di... No, com'è che si facevano? Oh, ragazzi, ci sono troppe recipe. Ci sono troppe recipe. Come... Ah, no, stupido, 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 stupido. Sto facendo confusione. Allora, gli steel block ci sono effettivamente, ma sono così, così, così. Così. Poi game powder e eeeh... Dov'è il nostro caro amico? L'avevo visto prima, un attimo fa. Non c'è una funzione cerca. Questo è molto scomodo, io devo dire. Se proprio devo dirlo, lo dirò. Ecco qua. Ecco fatto. Questo qua è un cannone, quello tradizionale, diciamo, di ferro. Ma è possibile anche la versione di bronze. Vabbè, adesso non sto a cercare tutto. Sostituendo gli steel block con i... copper block, come si chiamano. Eeeh... quindi... otterremo i cannon bronze e i cannon. Adesso, noi li piazziamo qua sopra i loro stand e... allo stesso modo abbiamo un sacco di tipi di munizioni differenti. Che si formano poi molto semplicemente con eeeh... il materiale di cui sono fatti, tipo... Così... otterremo quelle di ferro e... e via di seguito con quelle... di pietra, quelle di legno. Poi abbiamo quelle... infiammabili e quelle che esplodono. Che però possono essere disabilitate se per caso si è in dei server. Perché quelle possono creare un po' di... di danni. Eeeh... quella esplosiva è fatta con il mese. Quindi con 4 di mese e una gunpowder in mezzo. Eeeh... quella infiammabile è fatta con 4 di... di legno e un... e una torcia in mezzo. Quindi... 4 di mese e una gunpowder in mezzo. Ci do 2 exploding. E invece con la torcia con il legno dovremmo avere quella infiammabile. No, forse con le wooden planks. Ah, togliamo questo. Esatto, esatto. Ci da quelle infiammabili. Eeeh... inoltre se noi abbiamo anche la moral horse possiamo costruire quella in mithril. Eeeh... con la mese e con possiamo anche attivare con degli impulsi i nostri cannoni. Eeeh... no? Cos'è sta roba? Eeeh... time 6000 volevo. Allora... adesso il tutto sta nel mettere semplicemente la nostra gunpowder qua dentro e iniziamo da quella più... eeeh... piccola diciamo che fa meno male e ha una gittata più corta che è quella di legno. E quindi andiamo ad azionare il nostro cannone colpendolo con il click sinistro con una torcia. Ed ha sparato il nostro primo proiettile. È un piccolo passo per l'uomo ma un grande salto avanti per l'umanità. Mettiamo la nostra carissima gunpowder e utilizziamo questa volta il proiettile di stone. Eeeh... ufff... anche questo fa una bella esplosione. Poi continuiamo con quello di steel. Poi vi faccio vedere ancora un'ultima cosa. Dopo questo. Che va un po' più lontano. Quello di pietra va più... è più pesante. Cade prima. Mettiamo anche quello di mithril. Ciò che ce l'abbiamo che tra l'altro secondo me è uno spreco enorme di risorse ma di questo parlerò dopo. Va molto lontano e va fa molto male. Però... adesso vedremo. Facciamo con quella infiammabile che come potreste ben immaginare se colpisce qualcosa di infiammabile gli dà fuoco. Però non ha un raggio molto ampio diciamo. Eeeh... questi poi i cannoni sarebbero da mettere in delle zone alte così che la parabola sia più elevata. E poi abbiamo quello esplosivo che io dicevo oh mio dio devo allontanarmi dal cannone. Adesso farà un casino immenso e invece... Puff. Esatto. Puff. Eeeh... questa è l'esplosione. Abbiamo investito qua... vabbè. Eeeh... fanno un bel rumore quando sono colpi... anche quando sono colpiti. Eeeh... niente ci sono anche gli stack di eeeh... palle di cannone che si fanno con quattro palle di cannone ma da quello che ho visto sono semplicemente estetici perché non possono essere inseriti da nessuna parte. Qua non li accetta. Vedete non li accetta neanche nel bronze. Non lo accetta. Eeeh... e se messo nel crafting non si scrafta. Quindi è... puramente decorativo. Così. tanto per vederlo dici... ooooh ci sono delle palle di cannone qua. Uff. Anche questo fa un rumore di ferro. Bello. È un bel oggetto quello. Io direi che questa mod è molto comoda ma a livello estetico. Nel senso che esteticamente è molto bella. però funzionalmente... lascia un po' desiderare. Però è contro diciamo di questa mod di cui stiamo andando a finire la review molto rapidamente. Carina. Bella idea. Esplosioni. Tema piratesco medievaleggiante. Più rinascimento che medioevo. Eeeh... Cosa... non vista... Però... Estetica e basta. I cannoni funzionano ma non particolarmente bene come avete potuto vedere. È difficile... scegliere una direzione. Eeeh... E costa tantissimo. Cioè è troppo costosa a una moda del genere. Nel senso che... Per costruire i cannoni... Richiede un blocco di mese. Ogni cannone. Ogni singolo cannone. Per i proiettili... Richiede un fracco di risorse. Cioè ti dà due palle di ferro... Utilizzando cinque blocchi di ferro. Cioè cinque... Lingotti di ferro. In più la gunpowder. La gunpowder. Ogni singolo colpo che spari con questi cannoni... Vuol dire un cristallo di mese bruciato, distrutto, così. Oltre al fatto che ci metti 40 trilliardi di anni per... Creare la gunpowder. Ok che ti ottieni 12 di sale con... Con un secchiello d'acqua. E quello è un buon funzionamento. Ma poi per ottenere la gunpowder dal sale... Hai bisogno di... Un sale, un mese crystal e un... Coal lamp. Per ogni unità di gunpowder. Se non ricordo male. Adesso magari sto dicendo la cavolata del mondo. Però... Mi pare che fossimo rimasti così. Coal lamp. Quanto ce ne dà? Una. 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 Un'esplosione. Una singola maledetta esplosione. E... Sì, tante cose carine, ma... E poi? Cioè... La... La palla di... Di mese che fa l'esplosione costa un fracco. Ah, c'è anche il cannone di Mithril. Mi stavo dimenticando. Che non cambia particolarmente. Ha una gittata più lunga. Dovrebbe avere una gittata più lunga, ma... Cioè... Costa uno strafottio. Cioè, costa... Ehm... Sei blocchi di Mithril. Cioè, sei per nove... Ehm... Lingotti di Mithril. Cioè... Boh, proprio spreco di risorse a cavolo. Cioè, o uno ha un mondo in creativa e allora può utilizzarlo. Altrimenti in un mondo in survival... Credo che sia abbastanza... Difficile utilizzare una cosa del genere. E proprio per questo... Una mod che mi sembrava davvero carinissima per il nostro mondo... Penso che non la utilizzerò mai. Perché... È troppo costosa. E noi abbiamo già pochissimo mese. Quindi... E questa credo che sarà l'ultima volta che vedremo questa mod. A meno che non cambi drasticamente. Io vi saluto. Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivervi al canale. Se per caso vi fosse piaciuto il video. E voleste... Vedere altri video di questo tipo. Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi. 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 Ciao ragazzi.